Buongiorno a tutti. Con il decreto legge numero 22 dello scorso 8 aprile il Governo è intervenuto per introdurre misure volte a garantire la regolare conclusione del corrente anno scolastico e consentire un corretto avvio del nuovo anno scolastico. Tra le misure introdotte sono state previste novità anche in materia di graduatorie. In particolare il Governo ha previsto il rinvio al prossimo anno dell'istituzione delle graduatorie provinciali introdotte dal decreto legge 126 2019 e la costituzione e aggiornamento delle graduatorie di circolo ed istituto. Si tratta in effetti di una vera e propria doccia fredda per le migliaia di precari che attendevano con ansia la riapertura delle graduatorie di circolo ed istituto che era attesa proprio per questa primavera. Tuttavia il Governo ne ha deciso il rinvio al prossimo anno prevedendo che per l'anno scolastico 2020-2021 si continueranno ad utilizzare le vecchie graduatorie di istituto che continueranno quindi ad avere efficacia. E' stato previsto anche l'aggiornamento delle graduatorie di esaurimento nel prossimo anno scolastico. Questo è al momento quello che prevede il decreto legge 22. Tuttavia sembra che il Ministero abbia dato qualche speranza nel senso di una possibilità di ripensamento in sede di conversione in legge del decreto legge 22. Il Ministro Azzolina infatti negli scorsi giorni ha lasciato aperto uno spiraglio alla speranza dei precari di vedere aggiornate le graduatorie di istituto. Tuttavia non ha nascosto i problemi di natura tecnica, di tecnica normativa che si pongono per la possibilità di aggiornamento delle graduatorie perché dovrebbe essere emanato il regolamento attuativo della legge 126 circa l'istituzione delle graduatorie provinciali che sono strettamente connesse alle graduatorie di circolo e di istituto. Diciamo che questa decisione sarà oggetto di discussione sicuramente in sede parlamentare come è stato oggetto di forte dibattito tra le migliaia di precari che non aspettavano altro che l'aggiornamento delle graduatorie. Ci si è chiesti in effetti per quale motivo non si potesse procedere sin d'ora all'aggiornamento delle graduatorie visto che si poteva benissimo effettuare una procedura online di inserimento in graduatoria o aggiornamento del punteggio, procedura che le segreterie avrebbero ben potuto gestire senza contatto col pubblico. Quindi la delusione forte sia per coloro i quali erano già inseriti nelle graduatorie, avevano svolto attività di supplenza, conseguito nuovi titoli e quindi speravano di incrementare il proprio punteggio in graduatoria, sia per coloro i quali non erano mai stati inseriti in graduatoria e volevano adesso inserirsi per la prima volta in terza fascia. Tra l'altro avendo conseguito già i 24 crediti formativi previsti adesso quale titolo integrativo per poter ottenere l'inserimento in terza fascia. Quindi l'auspicio è che in sede di dibattito parlamentare per la conversione del decreto legge 22 si possa trovare una soluzione per l'aggiornamento delle graduatorie di istituto e quindi superare questa impasse che crea ancora più problemi rispetto a quelli attualmente in corso anche nel mondo della scuola. Grazie e arrivederci.